Un chilo di droga nascosto nella roulotte in attesa di metterla nella piazza cittadina. Un 44 anni triestino è stato arrestato e ora si trova in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. È solo l'ultimo fermo di un'investigazione molto più ampia della Polizia di Stato. Tutto parte da quegli arresti nei primi giorni di aprile, quando la squadra mobile di Trieste aveva individuato gli spacciatori tunisini del territorio e i rifornitori di droga albanesi provenienti da Venezia che avevano scelto Piazza Garibaldi come terminale per la vendita al dettaglio di cocaina. In quell'occasione, oltre agli arresti e alle perquisizioni, era stato sequestrato un chilo e mezzo di polvere bianca purissima. Le attività di indagine non si sono fermate a quegli episodi, ma sono proseguite consentendo di raggiungere un altro spacciatore, questa volta Triestino. L'uomo, nella sua roulotte parcheggiata alla periferia della città, conservava oltre un chilo di sostanze stupefacenti. Dalla dimora dello spacciatore, gli agenti hanno portato fuori otto etti di marijuana e quasi tre etti di hashish, oltre che della cocaina. Nella roulotte, il 44enne aveva tutto il necessario per il confezionamento della droga. Oltre alle sostanze stupefacenti, la polizia ha anche trovato un'ingente somma di denaro nascosto in un pacchetto di sigarette, velocemente provento dell'attività di spaccio. Dopo l'arresto, il pusher Triestino è stato portato al carcere del Coroneo.